Allora, cos'è che sta succedendo in pratica? In pratica sta succedendo che i cattolici sul territorio li avevano battuti, ma battuti alla grande, nel senso che sono scappati come topi di fogna, come solo i cattolici sanno fare, tanto per essere chiari, lampanti e precisi sulle cose. Scappando sul territorio e avendo dimostrato che sul territorio loro sono solo delle persone incapaci, viscide e vili nei confronti della vita, naturalmente si trincerano dietro le istituzioni. Trincerandosi dietro alcuni organi istituzionali stanno tentando di far passare dei disegni di legge che sono dei veri e propri attentati a quelle che sono le istituzioni della Repubblica Italiana. Attentati che servono non solo a tentare di annientare il sentimento religioso delle persone, ma a mio avviso essenzialmente a garantire il diritto a Voitila di stuprare bambini costringendo i ginocchi davanti al macellai Sodoma e Gomorra. E qui siamo proprio a questa proposta di legge. Ora noi ci siamo trovati in questa proposta di legge che Francesco ha preso e adesso Francesco comincerà ad illustrarla perché noi su questa proposta di legge abbiamo deciso di dare battaglia. Daremo battaglia rispetto alle istituzioni proprio perché è giusto partecipare al dibattito e parteciperemo al dibattito come noi intendiamo partecipare al dibattito. Cioè non intendiamo tirarci indietro, questo deve essere chiaro un po' per tutti e anche i cattolici. Naturalmente ognuno combatte con le sue armi, noi con le nostre. Allora questa è una proposta di legge abbastanza recente in quanto è stata presentata l'11 marzo del 2003, di conseguenza non è una cosa vecchia. E la proposta di legge della Camera dei Diputati è la numero 3770, perciò qualcuno che vuole andare a verificare quello che diciamo si va dalla Camera, fa proposta di legge, prende la 3770 e trova anche chi l'ha firmata. Premetto che non è l'iniziativa di un singolo deputato che può essere impazzito, ma purtroppo questa legge è una proposta di legge firmata da 34 deputati. Il che se dovessimo fare le statistiche significa che il 5% del Parlamento italiano ci ha sottoscritto questa proposta di legge. Io per fortuna questi deputati non li conosco tutti, però ne ho individuato uno che è di Vicenza, che è un certo Giorgio Conte. E siccome io ho invitato a fare pressing sui deputati, visto che Vicenza è nella zona della copertura della radio, e visto che a Vicenza si vota per il Consiglio Comunale, gli elettori vicentini che sono attenti, non dico alla nostra tematica, ma alla tematica dei diritti civili e delle libertà, tutti quanti potrebbero cominciare a fare un po' di pressione, vi sfruttando anche il momento elettorale. Questo è un consiglio, poi andremo a individuare i collegi di tutti i 34 deputati, faremo la lista, così chi vota e chi va a votare o chi pensa di esprimere la propria opinione sa per chi non votare. Noi non diamo un'indicazione di voto, però logicamente quando una persona si qualifica con questa proposta di legge diventa pericolosa. La proposta di legge si chiama Misure contro i movimenti sedicenti religiosi esoterici o magici e di seguarci nel culto di Satana. Il che qua, già dal titolo, ci sarebbe da discutere moltissimo. E come se una proposta di legge fosse contro i protestanti, per esempio. Facciamo una legge contro i protestanti. Già, quando si parla di sedicenti, perché già il termine sedicenti, chi è che va a distinguere chi è autentico da chi è falso? Cioè chi è che ha l'autorità, chi ha la possibilità di dire se questo è un vero gruppo religioso, questo è un finto gruppo religioso. Preciso una cosa Francesco, sentenze della Corte Costituzionale e sentenze della Suprema Corte di Cassazione hanno già stabilito alcuni criteri fondamentali attraverso i quali si devono usare i giudizi. Per cui esistono delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in merito a ciò. Il problema, e attenzione, quelle sentenze sono sentenze relative alla nostra Costituzione, cioè richiamano il dettato costituzionale e la loro interpretazione. Quello che noi andiamo a leggervi adesso con questa proposta è qualcosa di aberrante. Cioè non vi stiamo leggendo qualcosa che è... Cioè questi deputati hanno proposto una cosa che è aberrante, incostituzionale e offensiva per la nostra Costituzione e anche per lo Stato civile. Per cui quello che andiamo a leggervi adesso è solo loro che lo hanno scritto. Non ha nessunissimo valore. Cioè si è chiaro questo? Perché non pensiate che questa sia una legge. Non è una legge. È una proposta di legge. È una proposta che alcuni fanno per i propri interessi personali. E poi vedremo quali sono. Ecco, poi il punto si parla di esoterici. Io vorrei ricordare una cosa molto particolare. Esoterici cosa significa? Con esoterismo si intende a tutte quante quelle tematiche che il monoteismo ha allontanato e che di conseguenza non lo studiate e diventano esoteriche. Non è che nascondono qualcosa, ma è soltanto per definire uno studioso che studia cose che la massa, perché il monoteismo l'ha imposto, non affronta più. E vorrei ricordare che ci sono moltissimi autori che si definiscono esoterici che appartengono anche all'area culturale dell'onorevole Conte di Vicenza. Poi si parla di magici. Di corso magici sappiamo che è un termine molto molto vasto e che è difficile quantificare. Sappiamo che per magici si intende alla base una scienza dell'io, cioè di quella che sviluppa la persona, che poi sono altre cose secondarie. Poi si mette, se quasi del culto di Satana, che satanisti in Italia non esultano che ne esistano, che esistono delle veleità, che molte sono delle iniziative fasulle fatte dai cattolici, dai movimenti antistrati su internet, di conseguenza sono totalmente inattendibili e perciò di conseguenza sarebbe una persecuzione dei cattolici che fingono di essere satanisti e questo è un dato di fatto. Benissimo. Ma andiamo avanti nella realizzazione di presentazione di questa proposta di legge dell'11 marzo 2003. Dice, onorevoli colleghi, numerose indagini condotte in ambienti scientifici e istituzionali, io mi chiedo, e lo chiederemo, quali sono queste indagini? Quali sono queste indagini? Perché, a che sappia io, noi ci interessiamo di queste tematiche da molto tempo, non mi risultano che siano inchieste scientifiche, se poi per scientifiche andiamo a quelle che ha fatto il GRIS o il CIRS o altre iniziative, penso che dovremmo essere a livello di comicità. Quando io vi ho detto che scendiamo in campo a modo nostro, significa davvero a modo nostro, cioè significa che i signori deputati che hanno sottoscritto questa cosa dovranno dare spiegazioni di questo, perché noi faremo delle pagine web a cui i loro nomi e cui i loro cognomi con la loro relazione e il commento alla loro relazione. Cioè non è che stiamo scherzando, questo è veramente un attentato alla Costituzione della Repubblica Italiana, cioè è una cosa a livello terroristico, puro. Probabilmente loro non si sono neanche resi conto di quello che fanno, o forse delle loro idee a parte, ma qua si tratta effettivamente che abbiamo una Costituzione che viene messa in pericolo. Sì, di conseguenza queste informazioni su quali sono queste ricerche fatte in ambito scientifico non ce ne sono, gli unici che sono fatte sono fatte appunto con clamore dei gruppi antisetta e sappiamo quanto siano fondate, cioè nel senso che sono fondate sul ridicolo, per essere chiari. Poi appunto parlano appunto di queste indagini, parlano di proliferare di sette pseudo-religiose. In realtà, torniamo sul discorso, chi stabilisce cosa è religioso, certo loro non lo sanno quali significati è religioso, significa il cristianesimo è religione, tutto il resto è pseudo-religione, perché come sempre i monotevisti sono impositivi. Sì, ma leggiamo al limite una frase tutta intera, Francesco, se no i riscontratori perdono. Ora la prima frase dice, onorevoli colleghi, numerose indagini condotte in ambienti scientifici ed istituzionali, non solo italiani, hanno evidenziato come negli ultimi tempi siano proliferate sette pseudo-religiose in cui sempre più spesso leader carismatici, ingerendo sui processi decisionali degli adepti e in modo tale da condizionare la psiche alimentano sedicenti movimenti che arrivano a porre in essere forme preoccupanti di illegalità. Questa è la frase di Insieme. Sì, beh, già diventare il sette pseudo-religiose, quel pseudo, c'è sempre un problema di chi si erge a giudice, di chi si erge a metro di misura, a tecnico che discrimina cosa è vero e cosa è falso. Solo che la Corte di Cassazione ha già detto che discriminare fra le religioni, dire che cos'è o non è religione, di fatto è nella violazione dell'articolo 21 della Carta Costituzionale. Sentenza della Cassazione 1997. Sì, e un'altra cosa che poi c'è, che è più grave ancora, cioè qua si parla già del termine avvento di internet che quasi sembra una profezia messianica che viene utilizzata, nel senso che è un affermarsi, un consolidarsi o un prendere piede. Ma dice che appunto internet è utilizzata per diffondere liberamente le proprie dottrine, sempre più spesso non scelta da contenuti illegali. Cosa ci sia di male di utilizzare uno strumento che ha a disposizione di tutti, per diffondere le proprie idee, non mi sembra che sia un problema. Il problema è che se una pagina web o se delle cose hanno dei contenuti illegali, è così semplice, si leggono i contenuti illegali e si spicca mandato di comparizione, mandato di cattura, avviso di garanzia, cioè si spicca un mandato e si fa un'indagine per i contenuti illegali che sono espressi. Meglio di così, internet ha permesso l'arresto di migliaia di pedofili che altrimenti non sarebbero mai stati arrestati. Premesso una cosa, che esiste una vecchia sentenza corticozionale che dice che anche le associazioni che sono sovversive, se non vanno ad applicare concretamente i loro principi, non sono perseguibili, non fanno reato. Anche in questo senso, perché un discorso è enunciare una cosa, proclamare una cosa, affermare una cosa, manifestare un'idea, un discorso è che questa idea passi dall'aspetto pratico, perché se noi subentriamo nelle intenzioni, nelle parole o nei pensieri delle persone, finiamo in uno stato etico, cioè finiamo in uno stato inquisitorio. E questa è la cosa più grave, perché qua si dice questo non è che da internet, da virtuali diventano reali, no, questi fanno delle pagine internet in cui ci sono anche contenuti violenti, benissimo, ma se sono contenuti violenti e queste persone non passano dal virtuale al reale, non esiste un reato, a meno che, come vogliono i cattolici, come l'ha proposto anche Don Benzi, non si vada a fare uno stato etico e di conseguenza si va a discriminare anche con quello che pensa, ma d'attronde andare a discriminare su quello che si pensa, lui insegna già l'Evangelo, lui insegna già Gesù Cristo, che dice che è già pensare e commettere peccato. Probabilmente, chi ha scritto questa proposta di legge, si ispirava alle fasi del Vangelo e non certo ai principi legalitari di libertà e diritti civili che il nostro occidente ha conquistato lottando contro il monoteismo. Poi appunto, lui parla sempre questa relazione di associazione natura religiosa o possedoreligiosa e sempre il dubbio chi stabilisce, quale è l'autorità che stabilisce questo. E dice che queste organizzazioni, senza compiere niente, hanno un aspetto criminoso e che bisogna capire cosa anima l'intenzione dei leader. Perché questa è la cosa più grave, non dice che questi commettono dei reati, vanno a violare il codice penale, no, bisogna andare a capire quali sono le intenzioni che animano questo. Benissimo, ci sarebbe a chiedere cos'è che anima i sacerdoti nel voler battezzare i bambini, non so, cosa li anima? Il Papa che vuole imporre le leggi contro i diritti civili italiani, contro l'aborto e altre cose, cos'è che lo anima? La felicità e il benessere delle persone o la volontà di tenerle dentro un grese? E questo qua è già significativo perché è già del terreno di dire quali sono le intenzioni che queste persone fanno avanti. E questo qua vanno avanti, cioè nel senso di insistere che di voler intervenire anche sul pensiero, sulla metà di pensiero. Ma dopo, dice appunto che queste associazioni parlano di pedofilia. Beh, se noi andiamo a vedere i casi di pedofilia, sappiamo benissimo che gran parte della pedofilia a livello mondiale è all'interno delle religioni monoteistiche, nel particolare di chi si chiama cristiano. E di conseguenza non sono esistite associazioni in questo senso. Di conseguenza se doveva esistere una legge contro la pedofilia la si faccia soprattutto tenendo conto quella è la categoria maggiormente a rischio che è la categoria dei sacerdoti. Se effettivamente lo Stato intende perseguire la pedofilia che comunque lo sta facendo nei limiti del possibile anche se secondo me mette troppo poco il naso dentro le scuole cattoliche, mette troppo poca protezione ai ragazzi costretti nelle comunità, costretti circoscritti in ambienti chiusi e in mano ai cattolici. E purtroppo questi sono i ragazzi che più maggiormente con il rischio di subire attività pedofile. Il problema è che comunque lo Stato lavora per fare questo soltanto che non può fare il campo di sterminio come alcune persone gli piacerebbe. I reati vanno repressi all'interno della legge e all'interno della norma vigente in quel momento. Per cui lo Stato in realtà sta perseguendo la pedofilia. Non si può mica inventare che Tizio Caio abbia fatto un reato. Deve chiaramente scoprirlo prima. Torna a ripetere, secondo me dovrebbe mettere più il naso nelle comunità cattoliche e proteggere maggiormente i ragazzi che ci stanno dentro. Però non posso disconoscere il fatto che gli organi di polizia, i carabinieri fanno quello che possono e spesso lo fanno anche bene. Grazie a Internet ne hanno beccati una barca. Ma ricordiamo sempre che qua un magistrato ha fatto una dichiarazione che è stato quasi processato per questo c'è processato diciamo sopopolare da parte dei cattolici perché aveva detto che cercano di indagarsi con un fatto di pietrofilia che coinvolgevano sacerdoti e aveva trovato un ambiente molto omertoso. Questo l'ha detto un magistrato che si occupava di minori. Il magistrato se ne ricordo bene della procura di Milano ha detto che si è trovato forte mi sembra adesso non mi ricordo il nome comunque ha detto che ha trovato un ambiente omertoso. Ricordiamo quello che ha detto il cardinale Tonini che se la chiesa cattolica non si para probabilmente si troverà ad affrontare uno scandalo peggiore di quello americano e l'ha detto il cardinale Tonini. Si sa com'è in Italia purtroppo anche perché la legge italiana non è come quella americana per cui il procedere va in prescrizione troppo presto. Poi appunto sempre con questa relazione parla che queste sette questi gruppi pensatori religioni fanno azioni contro il buon gusto. Ecco sì qui siamo siamo al al ridicolo cioè qualcuno che decide che cos'è il buon gusto cioè noi abbiamo un articolo all'interno della Costituzione che viene quasi sempre dimenticato e ciò che dice l'arte non è mai pornografica non è mai sì penso che voglio dire questo adesso non so non vorrei dire qualcosa comunque questo è il senso che dice perché perché qualcuno vuole fare mettere le mutande alle statue o a robe di questo genere cioè l'arte non è mai offensiva pertanto dire che una cosa è di buon gusto non è di buon gusto di fatto è una violazione del detatto costituzionale non è solo una cosa ridicola cioè è una cosa grave non è semplicemente ridicola sì ecco però andiamo avanti loro cosa citano? Citano alcuni fatti di cronaca ed è divertente i fatti di cronaca che mettono in comparazione e però per non fare una legge contro questa situazione dice parla della santona mamma gemma della comunità piccoli apostoli di Maria bene inquisita per truffa abuso della curiosità popolare e violenza privata questi sono i piccoli apostoli di Maria e nessuno ha detto ma questo è quello accendo con la magia quello accendo con il satanismo sono cattolici non è niente ma attenzione però li hanno beccati cioè la polizia di stato ha trovato delle illegalità di comportamenti illegali e sono stati inquisiti cioè si no ma ma dirigiamola con un altro esempio che fanno dicono poi parlano di una seta di foggia che dedita il culto della dea esite a tirare i giovani tramite lo spiritismo ecco questo qua io non credo che sia vera la notizia questa notizia venne fuori in occasione di Nadia Roccia il delitto delle ragazze di foggia e io ho l'impressione che furono uno dei due sistemi con cui gli avvocati tentarono di depistare le indagini uno dei sistemi fu la pista satanista cioè o satana o il demonio o le mutandine e roba di questo genere e l'altra fu appunto il culto di Iside e fece molto scalpore per due giorni sui giornali dopodiché sparì letteralmente dalla cronaca del processo però il processo veniva ricondotto anche a questo culto della De Iside ora io sono convinto che tutto ciò sia stato assolutamente inventato e sono sempre pronto a ricredermi se mi viene dimostrato il contrario ma non solo fu inventato ma era un progetto lanciato per destabilizzare quello che è il sistema religioso attraverso proprio il delitto Nadia Roccia e il problema vero per i cattolici si si pose subito dopo perché il delitto Nadia Roccia avvenne in un clima socio-culturale che era spaventoso tant'è che il parroco delle ragazze il parroco di Foggia di quel paesino proprio il loro parroco fu arrestato per stupro di ragazze cioè si stuprava dei ragazzi in canonica eh per cui quello era il clima in cui era nato quello che veniva imputato questa seta di Foggia che non so neanche se esiste la sua senvenzione era quello che attirava i giovani cioè attirava gente facendo spiritismo di conseguenza tutti quelli che fanno spiritismo a questo punto diventano pericolosi cioè non è che gli vengano imputato qualche reato a questo gruppo se è mai esistito ma soltanto perché diceva che attirava i giovani con spiritismo al contrario dei piccoli apostoli di Maria inquisiti per truff abuso di comunità popolare e violenza privata cioè abbiamo una bella distanza un discorso è praticare lo spiritismo e un discorso è fare violenza privata e poi va avanti citiamo i fatti di minori sacrificati a Satana io voglio ricordare che quando si parlò di questo viene chiesto alla polizia e ha esponuto il ministro dell'interno e si esisteva qualcosa e diceva che dalle loro indagini non risultava niente di tutto questo sì in effetti quello che Francesco ha detto è che ci fu anche una trasmissione di porta a porta di Bruno Vespa Bruno Vespa si era buttato come un caimano sopra la faccenda perché sicuramente c'era qualcosa in studio c'era Don Benzi Don Benzi dichiarava 20 bambini all'anno sacrificati al culto di Satana praticamente lui dichiarava davanti alla polizia di Stato che c'erano 20 bambini ogni anno sacrificati al culto di Satana e la polizia di Stato gli diceva che non era vero che a loro non risultava ora o Don Benzi è un'organizzazione segreta tale per sapere cose che nemmeno la polizia di Stato è in grado di fare oppure la polizia di Stato è fatta da imbecilli ma mi rifiuto di credere a questa seconda cosa credo invece più opportunamente che Don Benzi stesse giocando sporco e stesse creando una situazione di allarme sociale tant'è che se non mi sbaglio a fine di quella trasmissione le uniche imputazioni che c'erano a questi pseudo satanisti era cessione di droga praticamente le stesse reati che avviene in qualsiasi discoteca di questo mondo e da quello che so io non c'è stato nessuna altra incriminazione dovevano essere vampiri dovevano aver stuprato dovevano aver fatto violenza dovevano aver incitato ad ammazzare o roba di questo genere perché i titoloni dei giornali arrivavano in questo ma tutto si ridimensionò a questo livello cioè nel senso che non c'era assolutamente niente questo vuol dire che se uno fa un reato non deve essere perseguito ma ricordatevi che nel nostro sistema giuridico perseguire una persona perché è negra perché è ebrea perché è protestante o perché è satanista si chiama razzismo fate un po' voi sì ecco poi la relazione prosegue dicendo che appunto sia facile confondere varie cose tra cui coloro che hanno deciso di appartenere in piena libertà a una religione minore o semplicemente diversa cioè qua siamo veramente il problema perché nel senso che se uno dice che fa parte del greco non è un problema ma bisogna stare attenti perché quello che dice che vuole appartenere liberamente a una religione minore potrebbe essere la fine di un adepto di satana per loro di conseguenza l'inquisizione non è molto distante e loro dicono appunto sì che nonostante tutto il problema è che esiste un sistema di tutela del diritto del cittadino cioè perché loro si rendono conto che vanno a cozzare contro questo a me sembra molto semplice vedendo anche dell'insegnamento della civiltà romana pre cristiana che diceva i cittadini hanno il diritto di fare quello che vogliono i cittadini hanno il diritto e fanno parte della comunità e sono un elemento concettivo della comunità all'interno del monoteismo questo non è possibile ma cosa dice anche sempre questa relazione dice che queste persone possono essere piccolose perché fanno ricerche alternative o rottura con i valori della società noi sappiamo che i cattolici monoteisti stanno impegnando a creare una società cristiana nel momento in cui i cattolici monoteisti hanno tentato di esarticolare la nostra costituzione tanto per se chi ma nel momento in cui le leggi di questo stato fossero quelle impositive del cattolicesimo del cristianesimo e della replicazione criminale di Gesù Cristo sicuramente uno che dice rivendico il mio diritto rappresenterebbe una rottura dei valori della società se noi parliamo di società civile è un discorso ma se parliamo di società cristiana ben pochi principi noi possiamo accettarli di conseguenza loro volendo parlare chiaramente di società cristiana tutti quelli che non subentrano ai canoni di accettare la società cristiana sarebbero pericolosi potenzialmente praticamente tutti quelli che non consentono a Voitila di stuprare i bambini in pace senza disturbarlo sono fuori dalla società cioè questa è la logica che questi personaggi si sono messi in testa che è una logica veramente aberrante comunque andiamo avanti Francesco e poi appunto loro si dicono che bisogna affronteggiare questo movimento che si presenta come religioso e di conseguenza ma questo è il problema chi stabilisce perché loro hanno stabilito che l'unica religione è quella cristiana tutte le altre religioni tutte le altre libertà tutte le altre non esistono e di conseguenza loro volendo riaffermare il termine appunto che la società la religione è quella cristiana chi aderisce a delle regioni minori o si libra dalle religioni monoteistiche si isola dalla società e di conseguenza se aderisce a un gruppo laico o civile che vuole diritti di libertà sicuramente si isola dalla società cristiana e di conseguenza diventa potenzialmente perseguibile Francesco mi permetti di leggere tre pagine io ho solo poche parti della religione ma veniamo qual è la frase che rilieva l'intenzione della legge che dice che bisogna affronteggiare il sovvertimento e alla rinnegazione dei valori della società e soprattutto del cristianesimo ed è qui che si smaschera quello che la legge è fatta in sostanza per evitare quello che lo chiamano il sovvertimento e la rinnegazione dei valori cristiani di conseguenza vogliono in tutti quanti i sensi applicare questo cioè dire noi dobbiamo difendere visto che il gregge non c'è più non entra più nessuno volentieri in un gregge dobbiamo imporre per legge l'impossibilità di uscire da questo schematismo poi ecco io ho finito questa è la parte della relazione la relazione è abbastanza lunga la metteremo su internet e uno se andrà a leggere se ne andrà a conto di questo poi Claudio può leggere delle cose e devo commentare alcuni articoli in specifico della legge caso mai io sto facendo ho lavorato fino alle 3 di notte poi stamattina mi sono alzato alle 8 e ho continuato praticamente fino a mezzogiorno a scrivere il discorso perché metteremo su internet faremo una pagina web ma faremo una pagina web non per la proposta di legge faremo una pagina web proprio per commentare la proposta di legge e niente voglio leggervi semplicemente come commento come commento il pezzo che vi ha citato Francesco cioè quello che dice la frase che dice conferma della pericolosità del fenomeno settario interviene anche il lungo elenco dei fatti di cronaca verificatisi negli ultimi anni in Italia attenzione il lungo elenco del quale si possono citare i casi più clamorosi come quello della Santona Mamma Gemma della comunità piccole e oppostole di Maria inquisita per truffa abuso della credulità popolare e violenza privata quella della setta di Foggia che dedita il culto della Dea Iside attirava i giovani tramite lo spiritismo quello concluso siccome arresto a Modena di sette persone per abusi sessuali durante messe nere ai danni di minori sacrificati a Satana e profanazione dei cimiteri e vi dipende della religione quello della setta Astrum Argentium in cui cinque minori sono state vittime di abusi sessuali ora vi leggo il commento perché abbiate un'idea di come intendo contestare questo passo questo passo ma anche tutti gli altri è interessante leggere qual è il ruolo dei cattolici in questo che il presentatore della legge definisce il lungo elenco inoltre è importante il ruolo del satanismo in questi episodi il discorso di mamma Gemma è un discorso cattolico le persone che lei truffava erano le persone che i cattolici avevano educato e preparato ad essere truffate anziché farsi truffare dal parroco sono andate a farsi truffare da mamma Gemma non di satanisti si tratta ma di cattolici in concorrenza troveremo sempre qualche concorrente della chiesa cattolica che anziché identificarsi con l'agnello sottomesso come la chiesa cattolica vorrebbe preferisce identificarsi col dio padrone della chiesa cattolica che sottomette il delitto di ogni potenza è una condizione propria degli adepti della chiesa cattolica loro sono create di immagine e somiglianza del dio padrone dell'universo mica giugiole il discorso del culto di Iside appare nel delitto Nadia Roccia oltre al culto di Iside venne paventata anche la pista satanista per quanto ne so l'uno e l'altro erano di fa essi montati ad arte come la pista dei riti satanici relativa al mostro di Firenze scomparsa quando il procuratore della repubblica della stessa città individuò nei topi il responsabile dell'asportazione di parti anatomiche all'obitorio di quest'ultimo episodio conosco uno dei responsabili che ha depistato le indagini millantando l'esistenza di una pista esoterica satanista è legato ai gruppi cattolici che combattono la nascita di gruppi religiosi diversi da quelli cattolici mediante la diffamazione e il creare allarme sociale gratuito in realtà ciò che è successo a Foggia va ricondotto alla situazione sociale vissuta da Foggia dove risulta emblematico l'arresto del parroco Giorgio Mazzoccato il parroco di Nadia Roccia dalla Repubblica del 3 aprile 1998 dice dopo l'omicidio di Nadia Roccia ancora sgomento al Castelluccio dei Sauri una decina di bambini prete arrestato per pedofilia stuprati in confessionale è il parroco della ragazza uccisa dalle amiche parliamo di Don Giorgio Covoni a proposito dei satanisti di Mantua l'accusa aveva chiesto per questo prete 14 anni di reclusione al processo i bambini hanno dichiarato il prete era il capo aveva detto in tribunale avevano detto in tribunale e se avessimo parlato ci avrebbe minacciati di morte tratto dal gazzettino del 19 maggio 2000 pochi giorni dopo il prete muore di infarto nello studio del suo avvocato e non ricordo se già questa sentenza oppure una sentenza successiva lo assolverà sta di fatto che tutti gli imputati erano tutti legati all'attività del prete dov'è la pseudo religione satanista in tutto questo? la mascherata serviva solo per terrorizzare i bambini questo è cattolicesimo puro la teoria del possesso del dio padrone parliamo di Astrum Argentium un ex carabiniere ed ex frate benedettino dopo le sue condanne venne da noi un paio di anni fa spacciandosi per Vicca scoprimmo per caso i suoi precedenti e lo allontanammo a noi attaciuto i suoi precedenti ma egli era in contatto con dei cattolici che lo stavano usando per sputtanarci o comunque i cattolici sapevano di lui e dei suoi precedenti e sapevano come la pensavano i pagani politeisti ed erano decisi a sfruttare la situazione per diffamarci la proposta di questa legge ha lo scopo di garantire i cattolici nella loro attività diffamatoria delle religioni diverse dalla loro non è un dubbio da poco ma io voglio continuare l'elenco affinché i signori deputati siano consapevoli di cosa può essere un lungo elenco di devastazione sociale mi sono fermato di fare l'elenco per disperazione a mezzogiorno però vi leggo soltanto la parte che ho scritto 19 marzo 2003 Massa Carrara prete arrestato per violenza sessuale un prete padre M di 67 anni è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale reiterata nei confronti di donne straniere clandestine che si rivolgevano al religioso per trovare lavoro 27 marzo 2003 Milano abusi sessuali condannato capo scout il giudice per l'udienza preliminare Claudio Castelli ha condannato ieri con rito abbreviato a 6 anni di reclusione Giuseppe R ex capo scout milanese accusato di aver abusato sessualmente di 8 bambini e di averne maltrattati altri 4 14 febbraio 2003 Bergamo molesti agli allievi 9 anni di carcere pedofilia suore condannate erano finite sotto indagine nell'inizio del 2000 per atti sessuali su minori due anziani suore che all'epoca dei fatti lavoravano nella scuola materna di Cazzano Sant'Andrea 8 gennaio 2003 USA il 40% dell'85.000 suore cattolica nei Stati Uniti potrebbe aver subito abusi sessuali in alcuni casi da sacerdoti e con sorelle lo sostiene uno studio condotto dall'Università di San Luis nel Missouri fondata dai gesuiti in base ad un questionario a cui hanno risposto 1164 suore 13 gennaio 2003 USA 1200 preti 1200 preti accusati di pedofilia da quando è scoppiato lo scandalo dei preti pedofili che da oltre un anno turba la chiesa cattolica americana oltre 1200 preti il 2% di tutte le dioci si usa sono accusati di aver abusato sessualmente di minori il dato risulta da una dettagliata inchiesta del New York Times 19 settembre 2002 Messico arrestato prete pedofilo latitante ma era ricercato in Italia da tre anni Edgar Gaudencio Dominguez sacerdote messicano ricercato in Italia da tre anni per abusi sessuali su minori è stato arrestato a città del Messico avrebbe molestato bimbi nella parrocchia di San Castrese Napoli fra le prove contro di lui anche la testimonianza di una bambina di 11 anni 17 ottobre 2002 Lecce bimbi serviziati in un istituto il tribunale li mandava lì per far trovare loro serenità ed equilibrio dopo una vita in famiglie difficili e invece quella comunità era un lager tre arresti 15 ottobre 2002 Pistoia politici e un sacerdote indagati per pedofilia c'è anche un sacerdote fra gli imputati nell'inchiesta contro la pedofilia condotta dalla procura di Pistoia 03 novembre 2000 Canada le quattro principali confessioni religiose cristiane del Canada rischiano un tracollo finanziario travolte da un'ondata di denuncia della popolazione indiana che ha denunciato decenni di abusi psicologici culturali e sessuali anche omicidi nelle scuole gestite dalle chiese e chiedono risarcimento per miliardi di dollari nel mirino delle azioni giudiziarie collettive ci sono chiesa anglicana chiesa cattolica presbiteriani e la United Church 20 ottobre 2000 Palermo il sacrestano di Palermo è un sacrestano di Palermo agli arresti domiciliari accusati di aver molestato una bimba nella parrocchia del Santissimo Crocifisso 8 ottobre 2000 Isernia indagato per truffa il vescovo di Isernia Monsignor Andrea Gemma 2 settembre 2002 Rovigo ex frate si flagellava davanti ai figli e li costringeva ad umiliarsi in nome di Cristo era arrivato a costringere i figli a guardarlo mentre con la sferta di cui si flagellava 3 agosto 2000 Salerno i racconti di 100 candidati convocati in questura riunioni in chiesa e milioni così ho passato l'esame 3 agosto 2000 Modena parroco denunciato ammolestato delle bambine una vicenda da trattare con molta prudenza tutta da verificare Monsignor Luigi Benetti vicario reggente della Giocesi di Carpi commenta con poche parole l'accusa avanzata nei confronti di un parroco della bassa modenese da alcuni genitori secondo i quali a quanto si è preso martedì il sacerdote avrebbe molestato le loro bambine durante il recente campo estivo in Val di Sole in Trentino 12 agosto 2000 alto prelato indagato per truffa Monsignor Michele Basso è proprietario di quadri e reperti archeologici che destano sospetti alla procura di Roma 20 agosto 2000 Santa Maria di Sala Venezia appello al Vaticano da parte della LAV contro la sagra parocchiale di Stigliano tira il collo all'oca prete denunciato al Papa proposito di molestia agli animali che parla anche di questo 10 agosto 2000 Verona pedofili in rete prete in manette c'è anche l'accusa di violenza sessuale su minori nei confronti del prete arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Verona per la pedofilia via internet con 60 indagati in varie regioni 28 giugno 2000 Venezia l'uomo nega tutto il tribunale lo condanna 14 mesi il frate violentatore il religioso era accusato di atti sessuali su una missionaria 10 luglio 2000 chiusa San Michele Torino il parroco tradito dalla carta di credito Don Marco Gamba ha passato la domenica in cella nella sezione nuovi giunti del carcere la Vallette è accusato di atti di violenza su minori e di aver messo in rete le foto se vi basta questo elenco io l'ho fermato per disperazione oggi perché dovevo venire in radio e questo è un elenco un po' più lungo di quello che hanno usato i deputati nella loro relazione ma hanno usato anche cose inesistenti perché ricordiamo che il tipo studi scientifici sono apparsi sulla stampa veneta parecchi ed erano studi che erano tutti quanti totalmente inattendibili tra cui ricordiamo appunto un altro ricercatore che affermava che addirittura i satanisti veneti avevano organizzato dei corsi di anatomia per insegnare a scortare i cadaveri poi ci ha telefonato disperato è vero è vero questi sono gli studi scientifici e logicamente sarebbe da vedere dove esistono queste prove dove sono stati dove sono questi fatti anche perché appunto qua nella legge si parla di profanazione di tombe di distruzione di parte di cadaveri e sappiamo che per quanto riguarda la diffusione appunto della profanazione di tombe anche i centri di cronica ci parlavano che erano ad esempio a Roma alla fine si parlava di satanismo in realtà è una guerra tra chi curava in maniera clandestina le varie tombe per motivi di interesse la distruzione di parte di cadaveri penso che si riferiscono a fatti di cronica deformati intenzionalmente come è il caso del collettor mostro di Firenze che in realtà erano i topi o come in caso di questo esperto insette che affermava che si stavano la tour dei corsi fatti dai satanisti per violare i cadaveri e che stranamente queste cose succedono nelle loro teste e non esiste nessuna autorità giudiziale che riesca a trovare delle prove o delle documentazioni in merito certo che la legge è una legge se non fosse per quello che andrebbe ad applicare per i principi giuridici che introduce nella nostra legislazione sarebbe da renderci sopra il problema è appunto che questa legge è firmata da 34 deputati cioè nel senso da 34 deputati che sono non andiamo a discutire l'area politica dei deputati sappiamo solo che sono deputati della Repubblica Italiana e poi sono 34 non sanno neanche loro cosa hanno fatto nel far questo cioè perché siamo anche stupiti di questo perché che se vi ricordate io alcuni mesi fa ho parlato di una delegazione dell'Aris Veneto che si è regata a incontrare i deputati si parlava di un deputato a Roma proprio per proporre una legge contro le sette che rubavano i figli in realtà sappiamo che il suo minore si allontana da casa la polizia in questo caso è molto solerta e va ad applicare le leggi in differenza del cittadino però logicamente sono andati a fare questa delegazione di una delegazione Veneto di un gruppo anti-sette soprattutto di Verona giù in Parlamento a cercare un deputato disposto a presentare questa legge perciò io presumo che molti di questi deputati si sono anche resi conto a cosa hanno messo la firma e io penso che bisogna fare una capacità di informazione anche nei loro confronti perché vadano a leggersi quello che hanno scritto e chiedergli dove esiste la documentazione dell'affermazione di una simile relazione adesso prepariamo tutta quanta la relazione poi vai in internet vai in pagina web nel giro poi la lanciamo lanciamo anche i giornali insomma questa proposta di legge non è possibile che passi ma neanche con una maggioranza schiacciante come a questo governo perché anche la maggioranza di questo governo questa legge è estremamente preoccupante anche perché va contro tutte le norme costituzionali contro tutte le direttive europee cioè è di una è di una gravità che secondo me i firmatari i deputati firmatari non hanno ancora compreso cioè non sono ancora arrivati a cosa hanno per me è stata una questione di leggerezza probabilmente anche di simpatia no? vabbè i cattolici giusto firmiamo sì qualche sacerdote tipo si presenta un domenzi che dice 20 bambini sacrificati a satana in Italia qualsiasi persona che lo prende come persona credibile si preoccupa di essere un'affermazione se poi è come noi che purtroppo dobbiamo seguire queste cose ci documentiamo siamo informati un'altra cosa possiamo anche prenderlo come uno zimbello però logicamente un'affermazione del genere ed anche dal punto di vista diciamo dell'impatto emotivo è sconvolgente anche perché purtroppo nella nostra cultura siamo abituati a dare pensare a un prete come autorità come persona affidabile e questo logicamente è una carenza molto grave delle nostre abitudini culturali però logicamente un prete che si presenta così che dice questo la gente tende a crederli e poi nessuno li va a chiedere la documentazione di quello che afferma anche perché torniamo a ripeterlo questi hanno tutto l'interesse nel proprio futuro nel fare questo non perché esista un fatto un problema di ordine pubblico esista un fatto di queste violenze perché basta pensare che questa legge cita all'articolo 3 dice che parla di aggravanti circostanza aggravanti dice atti di vampirismo e cannibalismo non so se significa vampirismo o ha visto troppi film dell'orrore chiaramente no ma in effetti anche a coso anche a durante quando lanciarono l'allarme sulla questione di Pescara parlarono anche di atti di vampirismo però in realtà fu semplicemente un allarme lanciato dal prete gratuitamente da quello che si sa cioè e basta la stessa polizia di stato ha detto queste cose non ci sono e questa è la cosa più micidiale capisci cioè quando io ti ho elencato questi preti che praticano queste violenze io devo avere una rassegna stampa accurata dove vado a tagliarmi tra filetti cioè per avere il prete che stupra 7-8 ragazzi io devo avere un tra filetto trovo un tra filetto sulla stampa qui per un'accessione di droga che avviene tutti i giorni nelle discoteche è sistematica ci sono stati paginoni cioè questo è sconvolgente cioè l'ordine dei giornalisti si presta a questo tipo di operazioni se si presta a questo tipo di operazioni quanta è la responsabilità dell'ordine dei giornalisti è gravissima capisci cioè qui stiamo alla destabilizzazione istituzionale qui veramente siamo vicino al terrorismo alla sovversione basta pensare che vogliono introdurre addirittura una normativa nel codice penale che sarebbe vogliono raggiungere un ulteriore passo dell'articolo 609 dice abuso rituale satanico esoterico abuso rituale satanico nel senso che che dice appunto associatamento della vittima cioè la vittima è assoggettata ma quante volte i bambini che vengono battitati sono assoggettati io ricordo che già un Giorgio Quartara nel 34 diceva che il battismo fatto in questa maniera era una violenza ricordo che Giorgio Quartara era un avvocato e diceva che anche il rituale della confessione violava le leggi dello stato italiano di allora del 34 cioè si parliamo 34 significa che il fascismo era il potere da 12 anni e con le leggi che il fascismo era il potere da 12 anni un avvocato poteva dire tranquillamente che la confessione rappresentava una violenza una violazione del codice penale fascista e che lo diceva tranquillamente e nessuno gli ha contestato questo libro certo il libro l'ha pubblicato in Francia poi è stato tradotto per forza di cose anche in Italia ma questo era un avvocato e penso che si metterà anche interessante riproporre quello che l'avvocato Giorgio Quartara nel 34 scriveva e diceva chiaramente che tutti quanti i reati le violazioni penali che commetteva e commette chi predica il cristianesimo perché ricordiamo che Giorgio Quartara non era un anticlericale era uno che aveva scritto e ribadiamo che se Gesù Cristo e fosse esistito e stato condannato è stato condannato giustamente per la sua predicazione per capire che non era un anticlericale perciò rendiamoci conto che non è le affermazioni nostre sono affermazioni forzate e all'inizio parlavo di un fatto di cronaca che dà anche la dimostrazione di come i cattolici si vogliono anche imporre e in una trasmissione televisiva si è detto un intellettuale ha affermato che non c'è nessuna differenza tra chi vende i cannoni e chi manda i missionari in giro per il mondo questa è un'affermazione che noi di queste radio diciamo da sempre che non c'è nessuna distanza benissimo un ministro di questo governo ha detto che se una simile fase doveva essere cancellata dai verbali se c'erano dei verbali della trasmissione e rendetevi conto cosa significa questo cioè nel senso che se un intellettuale che non si dichiara pagano ma che si dichiara laico è un intellettuale di grido non ha problemi nell'affermare questo significa che le che le avanguardie intellettuali chiamiamole così definiamole così che hanno sono capaci di osservare veramente il pericolo del mondo moderno del mondo cristiano si rendono conto da dove deriva il pericolo e Fini Massimo Fini non ha certo ascoltato nelle trasmissioni però lui ha scritto che chi vuole imporre lui ha detto addirittura a me non mi preoccupa chi si impone con la violenza ma mi preoccupa chi si impone con le buone intenzioni e le buone intenzioni lui si riferiva ai missionari ma ricordiamo che la chiesa cattolica il cattolicesimo si vuole imporre come missione anche adesso nell'occidente in Italia e la campagna per riavangelizzare la società è in atto e anche questa è una dimostrazione di questo perciò ricordiamo questo e voglio ricordare che questa trasmissione Massimo Fini quando ha detto che era stanco di sentire le frasi del Papa non l'hanno fatto parlare durante la trasmissione e addirittura neanche in chiusura li hanno fatto fare una battuta in chiusura della trasmissione perché lui ha detto che era stanco dell'imposizione che il Papa dava a questa società cioè rendetevi conto di questo il problema questo è che è partito al di là di questa legge è partito anche una campagna di stampa che non è semplicemente la campagna informativa fatta sui quotidiani della presentazione di questa legge di questo tentativo di fare legge ma c'è anche una campagna per esempio un articolo su di donne di repubblica del 19 aprile 2003 cioè di adesso praticamente dove per riuscire a giustificare ciò che avviene ora adesso stavo guardando un attimino si prendono fatti del 92 cioè praticamente si elencono dei fatti che sono abbastanza vecchi e che non hanno nessuna attinenza col momento di oggi in effetti negli anni 80 i movimenti magici avevano un attaccamento fra le persone diverso da quello che avevano oggi cioè la magia apprendeva un po' di più le persone oggi invece sono più scalda diciamo le persone si fanno fare meno fessi ebbene se io andassi a leggere quello che è scritto su Dio Repubblica c'è la cronaca la cronaca di una che comincia a rivolgersi a una setta nel 87 per cui siamo una cosa vecchissima perché è uscita dai gruppi nel 94 per cui siamo circa 8 anni fa come esempio per cui si deve per riuscire a far passare questa tipologia di legge si devono usare degli esempi vecchi di 10 anni quando la proposta legge dice che stanno proliferando in questo momento poi bisogna vedere appunto che questi fatti come sono avvenuti perché se andiamo a ricostruire il processo a Marco Dimitri di bambini di Sata esatto ricordiamo che Marco Dimitri ha ottenuto un indirizzo di 70.000 euro per aver fatto 400 giorni di carcere ingiustamente ricordiamo che l'unica condanna che ha avuto è quella di non aver dimattato i libri sociali ha preso una multa di un milione rispetto alle violenze che c'erano lo hanno accusato di aver stuprato donne di aver stuprato bambini di aver ammazzato bambini e la magistratura ha dichiarato che i fatti contestati non sono mai avvenuti però qualcuno ha portato dei testimoni indovinate a chi erano in mano questi testimoni all'organizzazione cattolica chiamata Gris quella diciamo di Bologna e chi erano le persone che facevano da supporto al pubblico ministero Ferrari presidente del Gris e Michele D'Arre un delinquente perché solo delinquente si può definire un individuo che predicava il sequestro di persona per scoppi religiore c'è un cattolico che predicava il sequestro di persona per fini religiosi effettivamente uno che chiaramente non può essere imputato finché non li mette in atto quando metterà in atto il sequestro di persona verrà arrestato però predicava praticamente tentando di avvalorare la pratica del sequestro di persona per fini religiosi non so se si possa cadere più in basso cioè qual è quella persona che fa un lavoro religioso e che sequestra le persone per finire religiosi solo i cattolici possono pensare a cosa è i cristiani però lo fanno tranquillamente nel senso che soltanto il monoteismo ha in sé un simile principio un simile valore e anzi è un'esaltazione di questo perché logicamente non è che sia un qualcosa di accidentale che è aggiunto è la parte fondante è la struttura base quella di imprigionare gli altri e di metterli nella condizione di non essere più liberi in nessuna maniera quella della condanna eterna basta pensare se dovessimo fare un'analisi del peccato originale attribuito ai bambini perché renderli già indegni della vita rendiamoci conto di cosa rappresentano anche dal punto di vista psicologico psichiatrico una simile formulazione sì ma io nella relazione che sto preparando infatti consiglio anche a questi deputati di rivolgersi rivolgersi sia alle forze dell'ordine cioè alla polizia di stato che possa relazionarli sull'esatta situazione a livello nazionale perché la polizia di stato c'è il polso dell'esatta situazione a livello nazionale magari gli sfuggerà il delitto adesso ma lo becca dopo non c'è problema però ha una mappatura di quelli che sono i gruppi di quelli che cosa fanno i gruppi quali sono le potenzialità dei gruppi c'è tutto questo per cui può tranquillamente relazionare qualsiasi deputato che ne faccia richiesta o comunque dargli tutte quelle indicazioni per formulare un giudizio più corretto e poi di rivolgersi all'università di psicologia e di psichiatria le quali possono delucidare i magistrati come avviene il condizionamento educazionale quando è che può avvenire un lavaggio del cervello in che condizioni può avvenire e quali sono le condizioni che portano a questo chiaramente se poi il cattolicesimo costruisce individui fragili attraverso il condizionamento educazionale e riempie il mondo di individui fragili beh gli individui fragili cercheranno qualche concorrente di cattolicesimo su cui appoggiarsi cioè cercheranno un punto d'appoggio ma questa semmai era la responsabilità del cattolicesimo e la distruzione emozionale delle persone per cui no sì sì ma basta pensare la dimensione di questa legge che l'articolo 1 chiede un'invocazione della legge contro le società segrete che se non sbaglio è la legge chiamata Tina Anselmi che appunto ricordava la legge di 2 dice di estendere questo reato ai movimenti sedicenti religiosi esoterici o magi ed i seguaci del colto di satana e dicono che perseguono le proprie finalità con riti e atti contrari al buon costume ma c'è già la legge che persegue i reati contrari al buon costume cioè il problema qui non si tratta leggendo l'articolo 1 non si tratta di perseguire il reato contro il buon costume qua si tratta di colpire delle persone presupponendo che quelle persone possono fare dei riti o delle cose contro il buon costume ma questo è illegale sì ma a parte questo sul discorso del buon costume la cultura italiana potrebbe soltanto di fatto di cronaca elencarne cose infinite sì in effetti anche l'arrivo del bikini l'arrivo del monochini fu dei cambiamenti del costume italiano no? sì ma io voglio ricordare che non molti anni fa sul lago di Garda ci fu una massiccia operazione fatta con elicotteri motoscafi e decine di carabinieri elicotteri e motoscafi e decine di carabinieri per andare a fermare un gruppo di nullisti appunto a San Vigilio dal lago di Garda cioè rendetevi conto della mobilitazione in pieno agosto di seme oltre 30 carabinieri con mobilitazione di elicottero e motoscafi che hanno fatto tutto lo sparco dal lago di Garda per fermare 30 nudisti cioè neanche in azioni di antiterrorismo sono attimo unitati così da tanti carabinieri e ricordiamo tutto quanto perché sempre qualche parroco con il prurito moralista è intervenuto d'altronde questa legge dice chiaramente che l'unico valore che loro riconoscono soprattutto è il cristianesimo il cristianesimo è sempre quello che maggiormente attacchi diritti sia di singoli ma sia fisici sia intellettuali sia anche di comportamento io qui non ce l'ho perché purtroppo ho preso sulla roba di furia di fretta e furia per venire via la corte costituzionale nel mese di giugno ha abrogato l'articolo 409 del codice penale il quale dava maggiori pena a chi disturbava un rito cattolico rispetto a un rito di qualunque altro gruppo religioso compresi i pagani e lo ha fatto perché il fatto che i cattolici avessero dei privilegi rispetto ai pagani costituiva di fatto una violazione del dettato costituzionale la corte costituzionale ha abrogato quell'articolo per cui è chiaramente riproporre questo significa riproporre ulteriormente quello che la corte costituzionale ha censurato cioè io penso che questi deputati non si siano neanche seguiti queste sentenze della corte costituzionale sono recenti va bene sono di giugno noi le abbiamo messe in internet le abbiamo commentate messe in internet però effettivamente si sospetta questo oppure si sospetta anche che questi deputati stiano facendo delle pressioni per ottenere qualcos'altro da qualche altra parte perché questo disegno di legge è talmente fuori di testa è veramente folle chiaramente ognuno ha il diritto di presentare un disegno di legge non è che trova il diritto a questo ma è talmente al di fuori di quello che è il vivere civile le relazioni fra le persone e la nostra costituzione le leggi dello stato è la relazione che è veramente una cosa che lascia interdetti cioè non esiste non so non esiste neanche parole per definire questo sì no ma infatti una cosa che mi avrebbe da pensare è già un autore nell'ottocento francese che parlava di distanza tra il paese reale e il paese legale che è una tematica che non è più considerata però io quando ho letto questa proposta di legge è venuta fuori proprio quella distanza cioè tra il paese reale e il paese legale ma viene fuori anche un'altra cosa che è fondamentale che le persone che stanno alla finestra che pensano che qualcuno possa fare qualcosa per loro in realtà saranno sempre deluse nel senso che i diritti individuali i diritti religiosi i diritti di libertà i diritti civili nel mondo occidentale in tutto il mondo non sono mai difesi dagli altri ma sono sempre difesi dal singolo cittadino di consenso se il singolo cittadino se ne fa il menerefreghista o fa finta di non guardare o ignora questo sicuramente non troverà nessun altro che prenda il suo posto di difendere questi diritti perciò è importante che le persone vadano a capire cosa succede perché logicamente questa è una legge non può essere applicata non verrà applicata ma ricordiamoci che i monoteisti non verrà neanche approvata cioè Francesco significa anche chiaramente anche perché logicamente questa legge è stata presentata per cercare di frenare il dibattito che c'è nella Commissione da fare costituzionale del riconoscimento delle varie revisioni perché cosa sta succedendo e diamo anche un piccolo particolare che forse fa denotare questo dopo che la federazione pagana è partita con lo scopo di far riconoscere legalmente il paganesimo italiano noi non abbiamo gesto agli altri di adeguarsi di seguirci di fare come noi noi facciamo questo voi siete liberi di fare quello che volete benissimo proprio in concomitanza con questa legge uno dei maggiori gruppi della vicca italiano ha deciso sempre con la maniera della vicca di fare le cose un po' sotto le acque anche loro di cominciare a intraprendere o di pensare di chiedere la legalizzazione la regolarizzazione il riconoscimento di una religione vica in Italia a questo punto logicamente i cattolici che non sono stupidi come inquisitori già non sono riusciti a bloccare la federazione pagana che era lo scopo loro fondamentale perché saperne che avevano a che fare con un soggetto chiamavano politico culturale religioso non facilmente digeribile e soltanto il pensare che in Italia veniva costituita un'associazione non coperta da finalità culturali ma dichiaratamente con finalità religiose pagane è stata una sconfitta enorme benissimo però noi abbiamo fatto anche da avanguardie cioè nel senso che non vogliamo riconoscimento però ci siamo consci che abbiamo fatto delle avanguardie in questo processo in questo movimento e facendolo da avanguardie abbiamo tracciato un sentiero più facile anche per gli altri perché logicamente tutte le cose che noi abbiamo dovuto affrontare che ci siamo scontrati che abbiamo realizzato che abbiamo detto che abbiamo imposto che siamo riusciti a fare gli altri trovano un sentiero già fatto noi non gli chiediamo neanche riconoscimento perché a noi ci interessa alla fine scardinare il monoteismo perciò se qualcuno è capace di utilizzare quello che noi abbiamo fatto quello che abbiamo realizzato e ci segue o utilizza quello che noi lasciamo o quello che noi proponiamo siamo sempre contenti difatti noi a queste della vicca non chiederemo niente non chiederemo neanche il grazie anzi siamo forse noi che gli chiediamo grazie che hanno fatto un attimo di coraggio nel farsi avanti però rendetevi conto che il momento significa che noi abbiamo fatto da trai abbiamo fatto un termine militare di modo da incursori e abbiamo aperto uno spazio abbiamo aperto una brezza su questa brezza anche le altre persone hanno cominciato a pensare perché il problema della vicca è che loro hanno la mania della pratica solitaria che è una ognuno ha i suoi gusti però io non ho mai compreso questa dimensione della pratica solitaria isolata individuale nascosta dei viccani ognuno ha le sue tendenze ognuno ha le sue passioni e su questo non andiamo a discutere però visto che i pagani non sono riusciti a imporre nel dibattito che non esistono soltanto i cristiani i cattolici monoteisti in Italia anche loro hanno pensato forse in maniera più intelligente i più intelligenti diciamo di dire perché non possiamo farlo anche noi e loro timidamente stanno facendo questo provate a pensare quanti campanelli quante campanoni sono suonate nei campanelli delle parrocchie italiane di fronte a cose del genere perché nel momento in cui hanno avuto la sconfitta che non sono riusciti a fermare la federazione pagana e poi vedono che qualcun altro fa i nostri stessi percorsi provate a pensare che se ci fossero 10, 20, 30 gruppi pagani che in Italia cominciano a rivendicare un diritto che è un diritto non è che sia un regalo che venga fatto ai cittadini è anche un dovere farlo non solo un diritto Francesco è un dovere farlo nel senso che è una cosa normale e ci troviamo di fronte a cosa? a delle leggi che diventano meno favorevoli per i cattolici diventano più liberi per la società per la cultura per la religione e sono leggi che si stanno approvando nella commissione e dall'altra parte qualche realtà che comincia a utilizzare queste leggi ma non in maniera mafiosa ma in maniera legale cioè da cittadini e il fatto che ci siano già due gruppi dell'area pagana o dell'area vicca che stanno pensando a questo crea problemi e di conseguenza non potendo più raccontarvi che esistono i satanisti che esistono le profanazioni che esistono gli omicidi che ci sono le sette cercano di abidolare quei poveri deputati però veramente poveri deputati sì io sinceramente questi deputati direi certi autori che appartengono anche al loro bagaglio culturale andrebbero riletti perché si rendano conto insomma comunque noi abbiamo costituito la federazione pagana anche per questo motivo cioè anche per far fronte a questo tipo di cose per cui noi interveremo massicciamente in questo in questo scontro e interveremo col nostro stile e con la forza che riusciremo a sviluppare noi siamo convinti di portare a casa un risultato cioè di portare a casa più di un risultato proprio da questo e anzi forse questo scontro ci aiuterà anche a sviluppare meglio quello che è il nostro discorso però tenendo presente che da quando abbiamo costituito la federazione pagana noi abbiamo già tre modi di relazionarci con le autorità con le istituzioni per cui già esiste un processo di riconoscimento di fatto di ciò che noi siamo come federazione pagana perché noi abbiamo in piedi tre cose non vi diciamo quali sono le tre cose perché devono maturare con i loro tempi con i loro modi questa sarebbe comunque la terza delle cose e sulla quale interveremo pesantemente rispetto alle istituzioni poi manifestando il nostro pensiero manifestando le nostre proposizioni e manifestando quello che è la nostra difesa quella che è la costituzione per cui queste cose non le lasciamo passare gratis e lo facciamo anche se fossimo noi da soli a farle anche perché è il nostro compito farle cioè ci siamo assunti il compito con la federazione pagana ed è il nostro compito tipo che tra l'altro non siamo i soli perché io questa legge non l'ho scoperta io i vicami le hanno segnate in certa maniera di conseguenza devo ringraziare loro insomma probabilmente loro hanno detto forse è troppo gossa per noi gli abbiamo Francesco diciamo Francesco dice io le do a Claudio ma è cazzo adesso vediamo comunque gli ascoltatori sanno che appunto una guerra per difendere e conquistare quello che è dovuto cioè i nostri diritti civili noi la facciamo non date che i diritti in Italia siano garantiti perché ricordiamo soltanto e sarebbe bene ricordarlo il discorso di quello che i cattolici stanno facendo con il discorso della legge sull'aborto però noi le battaglie per i diritti civili le facciamo e non chiediamo a nessuno di farle per noi certo che se qualcuno si cominciasse a dire che forse salvato un diritto se ne può salvare un secondo e anche un terzo le cose comincierebbero a marciare un po' meglio comunque noi non chiediamo niente a nessuno e la battaglia la facciamo e naturalmente ci paghiamo anche le eventuali conseguenze perché non pensiate che se io uso il mio linguaggio nel censurare questo tipo di legge non ci sia qualcuno che non pensi dopo di farmela pagare e chiaramente cercherò di essere corazzato e di affrontarlo io pensavo anche una cosa che se tutti quanti quelli che sono attenti ai diritti civili fanno le pressioni io ho parlato di un mio messaggio su internet inviato le nostre liste che poi invierò anche tutte le altre liste che hanno a che fare con il paganesimo e con il discorso appunto religioso non monoteista io parlavo di fare qualcosa di pressione di pressing sui deputati perché ricordiamoci che a maggio ci sono delle elezioni amministrative l'anno prossimo ci sono delle elezioni europee e dopo ancora ci sono le elezioni politiche di conseguenza essendo 34 deputati in Italia adesso non solo le loro ripartizioni geografiche quali sono i collegi se i pagani fanno presente i politici che devono considerare anche i pagani come un componente dello Stato italiano come cittadini e che devono essere attenti non solo ai diritti dei cattolici ma ai diritti di tutti i cittadini penso che ne avremmo forse da guadagnare cioè nel senso che un'azione di pressing su tutti i deputati possa essere interessante insomma due telefonate veloci veloci Francesco 049-700-700 e 049-700-838 questi sono i nostri numeri di telefono due le telefonate niente purtroppo nel nostro sistema sociale è necessario essere impegnati ed essere vigili dentro del sistema sociale noi vi abbiamo detto che noi si costruiamo una religione pagana politeista ma la religione pagana politeista che noi costruiamo non è al di fuori della vita o al di fuori dei sistemi sociali del modo di affrontare di affrontare l'esistenza ma è all'interno di questo si fa carico di tutti i problemi del sistema sociale in cui viviamo dicevo noi costruiamo la religione pagana politica ma è all'interno del sistema sociale anche questa legge fra le altre cose questo disegno di legge fra le altre cose dice che le cosiddette sette devono fare l'elenco dei loro adepti cioè ma scusa testa di guggolo se io sviluppo un sistema religioso di pensiero a livello diffuso sul territorio mi non vado a contare gli adepti non vado a contare la gente che vendri o che mi segue per cui non me ne frega assolutamente niente ho l'elenco di chi? ho l'elenco delle persone che partecipano a federazione pagana che sono pubbliche e che sottoscrivano la responsabilità degli atti della federazione pagana di questo ho l'elenco ma di tutte le centinaia di persone che mi seguono col cavolo che io faccio l'elenco ma neanche mi metto a fare l'elenco perché non mi interessa cioè mi interessa fare eventualmente l'elenco di quelle persone che si impegnano in prima persona ad esporre a se stesse nella costruzione della federazione pagana di cui vado fuori i testi di una ragione visto che siamo appunto Vissini alla chiusura che questa legge dà un'altra dimostrazione fondamentale è il documento di attualità l'otto per mille di conseguenza di fronte a una legge del genere anche la lotta per l'otto per mille diventa una delle manifestazioni fra le tante e non l'unica però diventa una dimostrazione che dà anche un segno contrario a quelli che vogliono fare questi deputati cioè nel senso che si dice chiaramente che la maggioranza degli italiani o quelli che firman per l'otto per mille e non danno il loro otto per mille alla chiesa cattolica o alle organizzazioni cattoliche monoteistiche vogliono uno stato che riconosca i detti di cittadini perciò se volete anche voi contribuire con una semplice firma a cercare di alterare e modificare o giustamente indirizzare il Parlamento italiano al Stato italiano date la vostra firma l'otto per mille per lo Stato italiano ricordiamo sempre che l'otto per mille al Stato italiano viene utilizzato per scopi di utilità sociale di cui tutti ne hanno benefici non pensate che l'otto per mille finisca gratuitamente alle chiese cattoliche perché lo Stato lo amministra abbastanza correttamente se avete problemi in questo senso di le destinazioni dell'otto per mille dato al Stato italiano sono sulla cazzetta ufficiale e poi ricordate se anche parte dell'otto per mille del Stato italiano viene utilizzato per ricostruzioni riconversioni restauri di strutture religiose un discorso è dare a una struttura religiosa di tipo monoteistica l'otto per mille un discorso è che deve rispettare le leggi di amministrazione pubblica di questi fondi che gli vengono destinati perciò ricordatevi che ogni anno l'otto per mille rappresenta una lotta fondamentale per dare una dimostrazione della differenza dei cittadini rispetto al paese legale e ricordiamo che l'otto per mille permette anche di portare avanti battaglie come quella contro i ripetitori del Radio Vaticana ricordate che i genitori negli anni scorsi hanno detto se volete aiutarci a difendere i nostri figli non date l'otto per mille al Vaticano o alla Chiesa ma dateli ad altre realtà noi invitiamo per lo Stato però ricordatevi anche il tentativo di silenziare una simile causa cioè la salute dei cittadini svenduta soltanto perché la Chiesa Cattolica per il cristianesimo sono intoccabili e ora se noi vogliamo fermare questi sensi se vogliamo fermare questo percorso tra cui questa legge lo dice chiaramente perché ricordiamo che questa legge firmata da 34 deputati di cui alcuni appartengono anche all'area governativa si dice chiaramente che loro vogliono impedire che la gente si stacchi dai valori cristiani e vogliono appunto diffondere soprattutto il cristianesimo se volete dare un'ulteriore dimostrazione dell'indipendenza del popolo italiano della gente della civiltà della cultura della società civile destinate l'otto per mille allo Stato italiano e questa è una cosa fondamentale comunque tenete presente che queste cose ci fanno anche comodo cioè il fatto di avere queste rappresentazioni all'interno del tessuto sociale ci permette anche di centrare il nostro discorso cioè di affrontare quelle che sono le condizioni del nostro vivere civile e sviluppare il nostro pensiero per cui noi con questo tipo di legge proprio per contrastare questa presenteremo a delle altre istanze istituzionali quelli che sono i principi della stragonaria del paganismo ricordo che i nostri temati possono anche seguire comodamente su internet perché ad esempio chi utilizza internet basta che vada sui gruppi di Yahoo trova nel settore del paganismo le nostre meni in lista si può iscrivere e può dare già un contributo anche nel leggere e nel diffondere quello che noi appunto proponiamo in lista perché ricordiamo appunto che anche questa legge nella redazione attacca sostanzialmente il diritto delle persone di utilizzare internet per manifestare le loro idee perché dice chiaramente che è diventato uno strumento per diffondere liberamente le proprie dottrine praticamente questi deputati hanno paura delle idee e non sanno come contrastare non sanno come opporvisi e l'unica cosa che sanno fare da buoni cristiani è quello di alzare i roghi non vorrei che fosse questo alla fin fine un altro intento insomma si ecco di conseguenza anche per chi è a caro le tematiche delle libertà di comunicazione e questa radio non è una dimostrazione fra le tante della libertà di comunicazione o di informazione e chi vuole appunto difendere a parte Radio Gamma Cing ma anche Internet come strumento di informazione sarebbe che questa legge rappresenta sicuramente un tentativo è una proposta di legge un tentativo è un po' ridicolo fra noi fallirà però anche la dimostrazione di come il monoteismo voglia imporsi sulla società comunque è stata decisa la contingentazione dei tempi per discussione sulla legge sulle religioni sul conoscimento delle religioni vengono contingentati per maggio pertanto speriamo che già si risolverà e vada avanti se la legge sulla libertà religiosa dovesse passare a diventare legge e non solo di battuta rappresenterebbe sicuramente una facilità di riconoscimento delle religioni di tutte le religioni e questo diventa importante e riconoscerebbe più facilmente anche la repressione di reati quando questi dovessero avvenire sì ecco perciò io dico se volete contribuire sappiate che su internet trovate materiale trovate informazioni trovate anche le liste e gli ascoltatori che ormai sono moltissimi che hanno la possibilità di accedere a internet possono usare questo strumento proprio per rimanere in contatto per avere notizie per avere qualsiasi informazione ricordo che se qualche ascoltatore vuole vengersi incontrato con noi per un po' di minuti dopo la trasmissione noi siamo qui ancora in radio a 049 700 777 perciò appunto lì possiamo prendere in privato perché fra poco la trasmissione è terminata già adesso sto per terminare Francesco bene e noi ci beh Claudio lo sentite questa sera dalle 19 e penso che comincerò a leggervi il pezzo sulla sulla costituzione europea cioè l'inganno dei cristiani sull'immagine del loro Dio andrò avanti con questo pezzo che è bene che venga conosciuto insomma anche perché i cristiani tendono sempre di far confondere il Dio dei Neoplatonici con il loro Dio in realtà il loro Dio è un assassino il Dio dei Neoplatonici è un'altra cosa bene beh ricordiamo l'appuntamento della conferenza che è il giorno 17 maggio sabato alle ore 20 e 30 qui a Cadoneghe in via Belzoni 9 il tema è la volontà e niente la dovrò spostare lo sguardo lo sguardo dalla forma alle azioni spostare lo sguardo dalla forma alle azioni è il primo passo per praticare stregoneria ok ciao a tutti e a risentirci alle ore 19 vado subito subito con la pubblicità ciao ciao a tutti ciao a tutti